Bagno di sangue sulle strade pugliesi nel giorno di Ferragosto. Sono stati tre gli incidenti mortali che hanno causato il decesso di altrettante persone, una giovane di 20 anni, un 31enne e un 60enne. Il primo fatale impatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada provinciale 123 che collega Pulsano a Monacizzo, in località Bagnara, nel Tarantino. A perdere la vita un 31enne che a bordo della sua moto, una Honda Phantom, è finito in un terreno incolto. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, hanno accertato la morte sul colpo del giovane. Poche ore più tardi è avvenuto il secondo tragico impatto sulla provinciale che collega Manduria a Francavilla Fontana nel Brindisino. Una Fiat Panda con a bordo tre ragazze ha impattato violentemente con un muretto di cemento armato dell'attraversamento ferroviario. La ventenne originaria di Ostuni che occupava il sedile posteriore è morta sul colpo, mentre l'altra passeggera ventenne e la ventitreenne conducente sono state ricoverate in ospedale con ferite, ma non in pericolo di vita. Proprio la ventitreenne è stata denunciata dai carabinieri di Francavilla perché trovata positiva ai cannabinoidi e con un tasso alcolemico superiore alla norma. Il terzo fatale sinistro è avvenuto in serata a San Severo in Viale 2 Giugno. Nel violento impatto coinvolte un'auto ed una moto con a bordo un sessantenne. L'uomo, un fruttivendolo molto conosciuto in città, è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Teresa Macelli Mascia, ma è morto poco dopo per le gravi ferite riportate.